Sono proprietari delle loro case, ma secondo la curia di Matera dovrebbero pagare 120 euro all'anno perché hanno edificato su un terreno della chiesa. A sollevare il caso che coinvolge alcuni abitanti della città dei Sassi, un servizio di Andrea Gresti per le Iene Show. La richiesta si basa sul concetto di enfiteusi, applicato soprattutto nel Medioevo, quando i ricchi affittavano alcuni terreni ai contadini in cambio di derrate o di denaro. Ma a Matera il canone enfiteutico sembra tornato di moda. Nel documento ricevuto dai malcapitati, la curia, in alternativa al versamento dei 120 euro annuali, offre la possibilità di riscattare il diritto di occupazione del suolo sborsando circa 2.000 euro. I proprietari sono decisi a non pagare nemmeno un centesimo. I preti sono assitati di soldi, è un attacco ai sacrifici di una vita, una richiesta da criminali. Questi alcuni dei commenti rilasciati dagli intervistati. Andrea Gresti ha chiesto spiegazioni a Don David Mannarella, responsabile della curia di Matera. presentandosi con una proposta ironica, saldare il conto con i prodotti della terra, come prevedeva secoli fa la consuetudine. I tempi sono cambiati, ha però risposto Mannarella. Può sembrare un po' fuori dal normale, ma il canone deve essere pagato in denaro, anche per non lasciare rogna agli eredi. Insomma, la curia di Matera quei soldi li pretende. Abbiamo proposto anche dei pagamenti rateizzati per andare incontro alle famiglie, e poi quei soldi saranno dati ai poveri, ha poi precisato Don Mannarella, che però ha preferito non rispondere alla domanda conclusiva della Iena sulla somma finora incassata grazie al canone anfiteutico. Grazie. Grazie. Grazie.